Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò delle caratteristiche tecniche del funzionamento della Chromecast, un accessorio che ha creato la Google per rendere qualsiasi tv che abbia una porta di ingresso HDMI renderla una tv smart, che abbia le funzioni come ad esempio di collegarsi a internet per prendere contenuti da Netflix, da YouTube e da varie app. Come vedete non è molto ingombrante e si tratta di un piccolo dischetto che si collega a quel cavo lì per la porta HDMI della tv e sotto invece ha un'alimentazione normale che si può attaccare anche all'adattatore USB della tv. Per cui quando accendete la tv automaticamente si attiva ed è molto comodo perché non utilizza energia a vuoto quando avete la tv spenta. Come vedete la mia tv non è un modello smart però con la Chromecast ho avuto l'occasione di modernizzarla ma tra l'altro è un accessorio di Google che supera secondo me anche le tv smart poiché è molto più semplice e intuitivo perché si riesce a controllare dal telefono. Adesso andiamo a vedere cosa succede quando accendiamo la tv. Adesso è il tempo che si accende. Intanto si sta attivando anche la Chromecast perché la tv manda dei segnali elettrici, crea corrente nella porta USB per cui la Chromecast si sta avviando. Eccoci sul ingresso HDMI 1 in questo caso. In questo momento vediamo la Chromecast che si avvia e appaiono varie immagini praticamente prese da Google dal motore di ricerca e sono veramente belle. Anche ad esempio se avete ospiti e volete tenere uno sfondo così potete tranquillamente usare queste immagini bellissime. Veramente, è bello anche così da vedere. Ecco, ora andiamo a vedere su YouTube come possiamo trasmettere i nostri contenuti. Io adesso vi farò vedere dal tablet. Basta premere questo piccolissimo pulsante che adesso non si vede più, forse così. Comunque è un pulsante con disegnato una piccola tv e un segnale che trasmette. Eccolo, adesso lo vedete meglio. Noi clicchiamo su questo piccolo tastino viene fuori, trasmetti a Sony. Vi faccio trasmetti. In questo momento la tv è collegata. Ready to watch perché in questo caso è in inglese. Io seleziono un video da YouTube e posso tranquillamente riprodurlo sul mia tv. Adesso vi faccio vedere. Si carica. Questo è il mio primo video. Come vedete la qualità è veramente altissima. Tra l'altro adesso esiste la Chromecast Ultra che supporta anche il 4K. Quindi nel tal caso voi aveste una tv in 4K potete tranquillamente comprare la Chromecast Ultra che avrà una qualità video ancora più alta di questa. La cosa veramente fenomenale della Chromecast è che quando voi trasmettete contenuti utilizzando il vostro telefono o il vostro tablet come ho fatto io come telecomando non tira giù né giga cioè non usa connessione dati e non usa neanche la batteria. Perché? Perché prende i contenuti direttamente dalla rete Wi-Fi. È per questo che si deve disporre di una connessione internet. Questo è vantaggioso perché non prendendo i contenuti dallo schermo del telefono riesce a non consumarvi connessione dati o vabbè Wi-Fi si stia a casa oppure batteria la batteria è la cosa più importante secondo me. Poi si può controllare dall'app di Google Home che è veramente intuitiva e per cui non ve la sto a spiegare adesso perché veramente capite subito quando l'aprite cosa c'è da fare. È veramente molto molto semplice da utilizzare. E tra l'altro conosco anche dei miei amici che hanno tv smart ma allo stesso tempo utilizzano anche la Chromecast perché è una soluzione molto più semplice per accedere direttamente ai contenuti per cui fanno un po' utilizzano la tv smart un po' utilizzano le funzionalità della Chromecast poiché riescono subito dal cellulare ad accedere alla tv molto senza passaggi dal telecomando. Altra funzionalità molto utile è di trasmissione per chi ha Netflix e si può facilmente trasmettere alla tv utilizzando sempre il solito pulsantino che adesso forse non vedete bene però ve lo premo io per voi trasmetti a Sony cioè in questo caso la tv perché poi potete dare un nome alla Chromecast io lo chiamavo Sony per riconoscere più facilmente la tv a questo punto apparirà il logo Netflix sulla vostra televisore pronto a trasmettere voi scegliete tranquillamente un film e iniziate a trasmetterlo veramente intuitivo molto semplice da fare poi se fate gli sconetti ritornerà alle schermate principali in cui vi dirà anche orario meteo se avete aggiunto la geolocalizzazione la vostra posizione per avere più precisione e la cosa veramente fantastica è che si può controllare anche attraverso Google Home e potete usare anche il servizio di Spotify ad esempio se voi chiedete a Google di accedere di riprodurre qualche brano e lo edite sulla sì io dico su Sony perché in questo caso l'ho chiamata Sony la mia Chromecast lui automaticamente prenderà il brano dalla rete come abbiamo detto prima e lo trasmetterà sulla tv sulla vostra tv utilizzando il servizio di Spotify in questo caso io se gli chiedo semplicemente di riprodurre un po' di musica la riproduce sul mio stereo perché ho scelto come piattaforma predefinita la Chromecast Audio mentre questa di cui stiamo parlando è la Chromecast Video della Chromecast Audio parleremo in un altro video ma si può tranquillamente impostare nelle impostazioni di Google Home la preferenza della Chromecast Video e in questo caso riuscirete a controllare la riproduzione dal vostro telefono vedendola sulla tv e utilizzando le casse della tv oppure casse esterne se le avete collegate potete fare un'infinità di cose ragazzi collegare a tutto quello che volete lì il limite è solo la vostra fantasia veramente altra funzionalità interessante che ha a che fare soprattutto con Google Home se voi chiedete a Google di accendere o spegnere la tv lui potrà farlo attraverso la Chromecast ovviamente per accenderla bisognerebbe che la Chromecast fosse sempre collegata alla rete elettrica e non in questo caso collegandola alla porta usb e poi però voi dovete controllare nella vostra tv che questa impostazione sia supportata perché se io chiedo ehi Google spegni la tv per favore non riesco a spegnere la tv forse dovresti controllare che la funzione sia supportata consulta il manuale o contatta il produttore per verificarlo lui se non ci riesce semplicemente ve lo comunica e voi potete vedere nelle istruzioni della tv se c'è un modo per abilitare una questa funzionalità che secondo me è molto utile poi però non l'ha adesso non ha avuto tempo ancora di controllare niente ragazzi questo era secondo me tutto se avete domande sempre lasciate nei commenti noi cercheremo di rispondervi e ci fa anche piacere rispondervi e niente io vi saluto qui spero vi sia piaciuto il video ciao se vi è piaciuto il video ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui prossimi oggetti di cui faremo la recensione a prossimo video ragazzi grazie